E' un gol di Cristian Galano, mio Dio che gol Cristian Galano, mio Dio che gol alla Del Piero potremmo dire ma dall'altra parte con il Mancino Una giocata spettacolare, un dribbling al limite dell'aria e poi un sinistro a giro che non ha dato scampo a Pellizzoli Bari 2, Entella 0. Ma è stato bravissimo De Luca, forse l'unica azione degna di nota della partita, ha celebrato in pratica tutta la difesa dell'Entella Poi ha visto Galano sull'out di destro, Galano che ha controllato, un passettino, poi la palla piazzata con un sinistro a giro all'incrocio Dove Pellizzoli non poteva arrivarci, un grandissimo gol di un grande Galano